Uno sguardo di rassegnazioni ma anche di speranza, quello gettato dall'architetto di Italia Nostra Michele De Crecchio sul centro storico e la desolatezza delle sue gallerie. Dopo decenni di politiche cittadine che hanno decretato la desertificazione commerciale, parlare di recupero non è semplice. Mentre il Comune conta su un fondo regionale di oltre 150.000 euro per recuperare le gallerie del centro, c'è chi pensa che alcune di esse, come la centralissima galleria Kennedy, andrebbero addirittura chiuse, mentre per altre servono interventi in grado di rivitalizzare le zone, renderle attrattive con arredi adeguati ed evitando gli eccessi. Spetta poi l'amministrazione compiere scelte che riescano realmente a invertire la tendenza all'impoverimento urbano e commerciale del centro storico. L'eccesso di vetrine che si realizzò a suo tempo era relazionato a un momento della vita cittadina in cui il centro commerciale coincideva col centro della città. Oggi purtroppo, per via della sciaguratissima politica condotta negli ultimi 20 anni dall'amministrazione, il centro storico di Cremona ha una presenza e un'attrattività commerciale sempre più bassa, per cui a mio parere sarà ben difficile che le gallerie possano recuperare e tornare a vivere. E' inutile illudersi. La galleria Kennedy, per esempio, è un antro urbano orrendo. La galleria della caffetera, quella che collega Corso Vittorio Emanuele con Via La Ponzone, è un altro antro orrendo. Qualcosa si potrebbe fare, certo sotto il profilo del restyling, l'impressione però che chi pensa di riqualificare queste cose voglia essenzialmente stimolare l'attenzione con delle trovatacce che colpiscono.